Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e in questo video andrò a parlarvi della Black Edition di Death Note Prima di cominciare volevo ricordarvi di scrivermi ancora nei commenti Ve l'ho già chiesto in altri video video ma ve lo richiedo Di scrivermi nei commenti che video vi piacerebbe vedere sul canale Per esempio una top 10 di qualcosa, top 5 qualcosa Insomma scrivetemi voi Perché avevo intenzione di portare anche questo genere di video adesso E quindi scrivetemi qua sotto nei commenti, qualcuno me l'ha già scritto ma in molti no Quindi se non mi avete ancora scritto nulla, scrivetemi che video vi piacerebbe vedere Poi vabbè iscrivetevi, commentate, solite cose non dividete e lasciate like, passate dagli altri due canali E soprattutto dalla pagina Instagram, mi raccomando ragazzi perché lì vi terrò aggiornati su diverse cose E nulla, direi di cominciare subito Ok allora, la Black Edition di Death Note Io ho solo il primo volume ma basta per poterne parlare Allora intanto come vedete è tutta nera Un'altra cosa che possiamo notare subito è che anche le pagine qua sono nere I bordi delle pagine sono neri Ora questo è tenuto un po' male Comunque me l'hanno regalato per il compleanno Che quindi è un'altra cosa che mi hanno regalato per il compleanno e non vi ho fatto vedere E comunque vedete c'è la scritta di Death Note tutta argentata Che vediamo se puntando la luce non si vede nulla Comunque vedete un pochino brilla la scritta, insomma riflette Qua c'è Light in copertina Qua gli autori, Planet Manga Mentre dietro troviamo qua su stesse cose La trama, il teschio e il prezzo Che è di 14,90 Non so se metto a fuoco Ok forse no Comunque è di 14,90 Mentre qua dietro dove c'è scritto il numero Possiamo vedere questo teschio Con il numero sulla fronte, insomma Ecco qua Si presenta davvero bene Le pagine sono appunto tutte nere Ma dentro poi sono normali Infatti anche se pieghiamo le vediamo subito bianche Solo il bordo così è nero E andando ad aprire Troviamo una pagina nera vabbè E poi iniziano delle pagine a colori Ah innanzitutto Vi devo dire che in ogni volume Ci sono due volumi dell'altra serie Della serie normale insomma Della edizione normale Di questa edizione qua no? Questa qua normale Infatti qua dentro ci sono ben questo volume Il numero 1 E il numero 2 Tutti e due qua dentro Quindi in un volume solo Guardate anche la differenza di Prendo questo con L Vabbè ok Guardate anche la differenza di grandezza insomma Vedete? Questo guardate ve lo metto al pari Questo è molto più piccolo Cioè è la La Black Edition è molto più grande Guardate qua Infatti è molto più grande Contiene due numeri E quindi anche le tavole di conseguenza Sono molto più belle Sono più grandi Più belle Insomma è davvero una bellissima edizione Comunque tornando a noi Qua dentro ci sono due volumi Quindi ci sono il volume 1 E il volume 2 E ovviamente tutto ciò che succede Infatti anche subito alla prima pagina Possiamo vedere qua I capitoli Sono i capitoli del volume 1 E del volume 2 E poi troviamo Una serie di pagina a colori Questa Ryuk nel mondo dei morti E Light a scuola Cioè insomma Non nel mondo dei morti Nel mondo degli dei della morte Ecco Qua questa tavola qua A colori Questa parte a colori Proprio all'inizio Vedete? Tutto a colori E poi L'ultima pagina a colori Questa qua Molto carina Con il cielo blu E Ryuk che vola E poi Tutte in bianco e nero Però comunque Insomma È È molto più bella Così Se non costasse Un fottio di più Però Insomma è molto bella così Cioè questa serie qua È davvero molto bella Diciamo che se avete soldi Da buttar via Ve la consiglio In fondo troviamo Questa pagina qua Che dice di iniziare Di qua a leggere Come tutti i fumetti Giapponesi Tradotti in italiano Poi troviamo queste cose qua Solite cose E alla fine Dopo L'ultima pagina Troviamo queste due vignette Queste due vignette Anche un po' comiche Tra La Itteryuk Che probabilmente Non vorrei dire una cavolata Ma sono anche nel numero 13 Di Death Note Cioè nel guidebook Tipo in fondo Ci sono delle vignette Mi pare siano lì Quindi se comprate il numero 13 Alla fine Cioè le trovate tutte lì Di tutti i volumi E poi vabbè raga Una delle mie tavole preferite Ve le devo far vedere Ah Eccolo Questo è bellissimo Lui che fa Io sono L Cioè è spettacolare L è troppo bello Comunque ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto E nel caso Ricordatevi come al solito Di lasciare like Commentare Condividere Iscrivervi al canale E attivate la campanellina Per ricevere la notifica Quando carico un video E passate anche dagli altri due canali Della pagina Instagram Mi raccomando Commentate qua sotto Passate anche dal canale Se non siete ancora iscritti Per vedere Che video faccio Se vi piaccio Mi iscrivetevi E niente ragazzi Io vi saluto E ci vediamo in un prossimo video Ciao raga